ciao a tutti amici di app video review ben ritrovati a una nuova video recensione come potete vedere quest'oggi abbiamo in prova un hard disk esterno prodotto dalla frecom ed è il mobile drive xxs 3.0 questo hard disk esterno compatibile con usb 3.0 oltre che all'usb 2.0 e è un hard disk che devo dire molto compatto abbiamo un peso di 155 grammi con 11 centimetri di lunghezza 8 centimetri di altezza e uno spessore di 1,3 centimetri quindi davvero compatto inoltre la parte esterna di questo hard disk è rivestita in materiale gommoso che permette oltre ad avere un buon grip se dobbiamo trasportarlo in giro senza paura che questo possa scivolarci dalle mani permette anche di avere una certa resistenza ai piccoli urti parlando ancora delle caratteristiche qui troviamo l'entrata per il cavo usb che viene dato in confezione cavo usb che è questo compatibile con usb 3.0 questo cavo oltre al trasferimento di dati quindi oltre a permettere di connettere l'hard disk ai nostri computer è un cavo che serve anche per alimentare questo hard disk infatti nella confezione è indicato che è un hard disk auto alimentato che verrà alimentato tramite porta usb quindi non abbiamo bisogno di altri cavi per l'alimentazione dello stesso hard disk all'interno dell'hard disk troviamo al primo utilizzo un programma compatibile sia con mac che con windows che ci permette di avere una migliore gestione di questo hard disk inoltre parlando ancora dell'hard disk abbiamo delle ottime devo dire prestazioni di trasferimento lettura e scrittura dei dati ho effettuato vari test con diversi file alcuni più pesanti altri meno pesanti e una cosa che ho dimenticato di dire che quella la copia che abbiamo in prova è da 500 gigabyte indicata in confezione ne esiste un'altra versione da un terabyte stavo dicendo che ho fatto vari test con file di diverse grandezze e con l'usb 2.0 abbiamo una buona velocità di trasferimento di dati all'interno dell'hard disk ovviamente velocità di trasferimento che sarà migliore con l'usb 3.0 inoltre è un hard disk molto silenzioso sia in fase di utilizzo quindi in fase di trasferimento lettura dei dati presenti all'interno dello stesso hard disk sia quando andremo semplicemente a connetterlo al computer che ovviamente l'hard disk verrà acceso automaticamente davvero molto silenzioso non si sente nemmeno una piccola precisazione un piccolo difetto non dell'hard disk ma del cavo il cavo in sé funziona egregiamente però un piccolo appunto che volevo dire è che secondo me un cavo un po' più lungo rispetto a questo non sarebbe stata una cattiva idea perché questo hard disk è sicuramente pensato per l'utilizzo con un portatile con un netbook quindi non abbiamo necessità di un cavo molto lungo anzi potrebbe essere quasi ingombrante avere un cavo di maggiori dimensioni con un utilizzo su un portatile perché andremo semplicemente a connetto alla porta usb dopodiché l'hard disk lo teniamo vicino al computer ma se vogliamo utilizzarlo su un fisso questo cavo con questa dimensione può creare alcuni problemi soprattutto una volta connesso sarà difficile poi ovviamente dipende dalla distanza delle porte usb trovare un appoggio dove andare poi ad alloggiare questo hard disk in una superficie quindi se abbiamo delle porte usb lontane da un appoggio questo cavo può risultare troppo corto ma nessun problema nulla di trascendentale resta comunque un prodotto molto molto utilizzabile ultima cosa che volevo dire riguarda l'usb 3.0 usb 3.0 migliore in tutti gli aspetti di velocità di performance rispetto alla 2.0 però è un peccato avere un hard disk compatibile con questa nuova tecnologia ma non averla così diffusa quindi abbiamo ancora un dominio pressoché totale dell'usb 2.0 rispetto alla 3.0 che comincia però a mettere piede sui computer di nuova generazione però comunque in maniera molto ridotta infatti un esempio tutti i mac tutta la linea di mac che anche gli ultimi modelli appena usciti non hanno usb 3.0 quindi è un peccato non poter sfruttare al 100% delle sue potenzialità questo hard disk comunque come ho detto precedentemente con i test effettuati posso dire che anche l'utilizzo con usb 2.0 è comunque molto performante e devo dire molto veloce ovviamente cambia tutto se andremo a utilizzarlo con una porta usb 3.0 la video recensione di questo hard disk si conclude qui in conclusione posso dire che è un ottimo prodotto consigliato per chi ha bisogno di un hard disk esterno portatile molto compatto e leggero da utilizzare su ogni computer magari da utilizzare anche in giro non necessariamente a casa quindi un ottimo prodotto la video recensione si conclude qui ciao a tutti